E' dello stesso periodo anche Patrick Sercou, che al giro riuscì a vincere 14 tappe tra il 70 e il 76. In virtù della scuola di suo padre, Albert, eccellente corridore, svolse gran parte della sua attività su pista. La pista ti regala delle qualità che sono intanto le qualità proprio utili.